Augusta Porto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il lavoro di manutenzione straordinaria. Un progetto da 21 milioni di euro interamente finanziati, quello predisposto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti nel porto commerciale di Augusta e nella nuova Darsena Servizi, la cui fattibilità tecnico-economica è stata approvata dal Comitato Tecnico e Amministrativo Regionale. L'intervento progettuale relativo alla manutenzione straordinaria di piazzali, arredi portuali e banchine esistenti nel porto commerciale nella nuova Darsena nel porto di Augusta si è resa necessaria in considerazione dell'aggressività dell'ambiente marino che ha determinato nel tempo il deterioramento delle strutture, delle banchine, degli arredi e degli impianti a servizio delle aree in oggetto. Tale intervento consentirà pertanto il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di operatività delle strutture portuali e il recupero della piena efficienza degli impianti oggetto dell'intervento, scongiurandone l'ulteriore deterioramento nel tempo. Il neopresidente di Sarcina si dichiara pienamente soddisfatto per l'importante traguardo appena raggiunto dall'ente il primo di una serie di rinforzamenti infrastrutturali che riguarderanno i porti di Augusta e Catania nel prossimo periodo. Grazie alla scelta di procedere con un appalto integrato l'ente punta a iniziare i lavori entro quest'anno e a concluderli presumibilmente entro 18 mesi dalla data di inizio. Infine l'ingegnere di Sarcina si è completamente complimentato con il suo staff per il lavoro fino allo svolto certo che la collaborazione e l'impegno di squadra porteranno al raggiungimento dei nuovi e importanti obiettivi che renderanno i porti di Augusta e di Catania sempre più fruibili e competitivi.